Ciao, mi chiamo Isis e chiedo il vostro aiuto perché mio fratello Edwin è scomparso. Edwin stava cercando di raggiungerci in Italia dalla Turchia. È scomparso purtroppo il 15 dicembre del 2023, dopo aver provato ad attraversare il fiume Ebros, che è il fiume che separa la Grecia dalla Turchia. Mio fratello Edwin ha 42 anni ed è alto 1,74 m ed è il giorno che è scomparso e indossava una giacca della North Face nera con grigia e purtroppo da quel giorno non sappiamo nulla di lui, non sappiamo se sia vivo o morto. È la cosa peggiore che non sappiamo se si trova in Grecia o in Turchia. Abbiamo fatto tutto il postile con l'autorità di tutti i due paesi, ma non siamo riusciti a trovare nessuna notizia di lui. E se avete qualsiasi informazione che possa aiutare a ritrovare mio fratello, non dubitate di contattarci tramite Made in Pot Europa. Ogni piccolo dettaglio può fare la differenza, anche di condividere, condividere questo video che davvero ci aiuterà davvero tanto. Così non solo per aiutare mio fratello, ma anche per dare voce anche alle altre persone che stanno passando per la stessa situazione e non hanno un aiuto. Così non solo per aiutare mio fratello, ma anche per aiutare mio fratello, ma anche per aiutare mio fratello.